Oggi vorrei incominciare con una buona notizia. Dalla regione Lombardia, e mi conferma anche l'assessore alla salute della regione, è arrivata comunicazione di 37 persone guarite. Quindi i numeri della regione Lombardia sono complessivamente 305 persone contagiate e 37 guarite. Tutti i pazienti allo Spallanzani sono guariti e vogliamo comunicare a tutto il mondo questa buona notizia, perché ci sono tante notizie errate che si inseguono in questi giorni e che stanno danneggiando profondamente sia il tessuto economico del nostro paese, ma soprattutto anche la reputazione della nostra comunità scientifica, che invece sta affrontando in maniera brillante questo momento di difficoltà. Il primo invito che posso fare da Ministro degli Esteri è dire a tutti i paesi del mondo, e quindi ai media di questi paesi, di attenersi ai bollettini ufficiali della protezione civile. E' stato fatto un lavoro importante e penso che oggi il fatto che siano entrambi negativi insieme al ragazzo italiano che eravamo andati a prendere noi da Juan con un'operazione coordinata, di cui voglio esprimere gratitudine alla Farnesina, all'Unità di Crisi, al Ministero della Difesa per come si è saputo affrontare quella vicenda, danno un segnale che le istituzioni ci sono e che il nostro paese è più forte del nuovo coronavirus. Presidente, con l'emergenza coronavirus a che punto siamo, ma soprattutto a che punto è la risposta del sistema paese e dell'industria farmaceutica? Beh, l'industria farmaceutica ha reagito fortunatamente fin da subito. Perché? Perché quando ci sono queste problematiche di tipo virale, la cosa più importante è stabilire la sequenza virale, che è un dato fondamentale per poter far partire la ricerca. In molti casi ci vogliono veramente mesi per arrivare alla sequenza virale. In questo caso no. La sequenza virale è stata identificata subito, soprattutto in Cina, ma poi anche dalle nostre tre straordinarie ricercatrici che lo hanno trovato. Quindi questa sequenza virale è stata messa a disposizione di questo network pubblico-privato-industria-istituzioni ed è cominciata subito la ricerca. Oggi mi sento di dire una cosa positiva. Ci sono ben 25 tra imprese e enti pubblici che stanno facendo ricerca per trovare un vaccino e questo credo che sia una cosa importante. Non vuol dire che ci siamo già arrivati, però ci sono già dei dati in vitro molto promettenti e quindi credo di poter dire che con un po' di ottimismo potremo avere il vaccino entro qualche mese. È affrontabile questa emergenza? Secondo lei sicuramente c'è da avere precauzione, ma possiamo superare la paura? Ma io credo che la paura non ci debba essere. Soprattutto credo che questa psicosi che si è generata sia totalmente inutile e gratuita. Questo è un virus che si è modificato, era un virus che è conosciuto. Abbiamo visto, come dicono gli scienziati, che la sua diffusione è abbastanza veloce, però non ha un alto indice di letalità. Presidente, invece su questo malcostume che purtroppo in circostanze simili si manifesta, parlo dei prezzi alle stelle, dei beni che riguardano l'emergenza, ad esempio le mascherine. Cosa bisogna fare? Beh, io credo che facciano bene i consumatori a segnalare quando questo succede e credo che le autorità debbano intervenire in questa direzione. Per quanto riguarda invece i farmaci, mi sento di tranquillizzare molto chi ci sta guardando, perché il prezzo di un farmaco non è un prezzo libero, non è un prezzo che può variare nemmeno nella distribuzione, perché è un prezzo che viene negoziato con l'Agenzia Italiana del Farmaco ed è amministrato per legge. Quindi credo che possano stare tranquilli. Non fate accapparamenti di farmaci perché non serve, non serve il farmaco, si prende solo quando lo prescrive un medico e se anche qualcuno abbia il timore che nell'andare avanti si possa verificare un aumento dei prezzi dei farmaci, è impossibile. Grazie.